sempre tornando su donali video dove lui ha fatto vedere vi lascio tutte le schede negozio rotto la prima persona è rapinato che si riteneva responsabile del distruzione del punto del negozio in questo filmato lui insegue qualcuno ragazzi è una mia supposizione secondo me è un altro dei responsabili del frutto negozio ma voi ragazzi iscrivetevi al lives 91 perché siete numerosissimi a guardare il canale ma ancora non vi siete iscritti è gratis fatelo è molto importante per la crescita di lives 91 grazie a tutti grazie a tutti